Ma lei è... Eh no, è lei che è un'incosciente. L'ha fatta la revisione. Revisione? Ci vorranno almeno due giorni. Ci sono gli uffici della motorizzazione e ben 4.000 ufficine autorizzate che in un'ora fanno tutto. Quando la dovrei fare? Dopo i primi 4 anni dall'acquisto dell'auto nuova e poi ogni 2 anni, come in tutta Europa. Un'automobile revisionata è un'automobile sicura. Ma è già sicura? Basta un'ora e state tranquilli. 2 anni.